A poche settimane dalla revoca del contratto di gestione dei parcheggi di Colle Maggio alla Società Mobilità e Parcheggi, che già su questo fronte si prepara ai ricorsi contro il Comune, almeno sull'altro fronte, quello dell'avvertenza sindacale che si trascina da dieci anni, arriva una buona notizia per i lavoratori della società aquilana senza stipendio da nove mesi. È stato infatti siglato questa mattina un accordo per l'attribuzione della Cassa Integrazione. Attorno al tavolo i sindacalisti della FIT CGL e della FIT CIS della provincia dell'Aquila e le società titolari della concessione. La vera incognita è la tempistica con cui questi soldi arriveranno nelle tasche dei lavoratori che sono da quasi un anno senza stipendio. Questa è la condizione dei dipendenti della mobilità e parcheggi che gestisce qua all'Aquila il Terminal Renzo Natali e in più aveva l'affidamento in concessione dei servizi di bigliettazione sulle strisce blu del Comune dell'Aquila, che oramai sono dieci anni che è un pezzo dell'attività che manca a questa azienda. Ovviamente oggi abbiamo dovuto affrontare le necessità, le difficoltà dei lavoratori e anche le difficoltà dell'azienda per cui abbiamo sottoscritto un accordo di Cassa Integrazione Ordinaria provando a dare una copertura salariale a questi lavoratori che vivono difficoltà economiche importanti avendo un credito verso l'azienda di nuove mensilità, un'azienda in difficoltà anche per effetto dei mancati pagamenti di tua del contratto che vede l'attracco dei bullman ex urbani in questa realtà. Insomma è una condizione complicatissima alla quale poi si aggiunge ovviamente sullo sfondo lo scenario della revoca della concessione da parte del Comune dell'Aquila. L'accordo siglato questa mattina prevede la messa in Cassa Integrazione di questi 14 dipendenti per 52 settimane la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con la possibilità di chiedere alla fine delle 52 settimane un ulteriore anno di prologa. Poi c'è il percorso vertenziale con il Comune che al momento sembrerebbe che abbiano fatto richiesta di interruzione l'azienda abbia fatto richiesta di interruzione nei confronti del Comune ma non ci è dato ancora di capire quello che succederà poi per l'affidamento dell'AMP.